un contratto di lavoro l'avete mai visto voi è un libro più grosso dei promessi sposi minimo minimo se vuoi parlare di un contratto decente che si possa chiamare tale 250 pagine scritto piccolo questo contratto non sa da fare tanto per rimanere scritto piccolo con le note a margine le dichiarazioni verbale c'è tutta roba interessante dentro il contratto domanda contratto collettivo no perché se no pensano che sia il contratto collettivo di lavoro il contratto collettivo di lavoro è un libro fatto così domanda uno piglia il contratto collettivo di lavori ti faccio un giochino ti chiedo ti faccio una domanda vai a cercare la pagina nella quale di queste 250 si capisce qual è la relazione tra poletti cittadino poletti lavoratore e l'opera cioè il risultante la risultante del suo lavoro in 250 pagine troverete che colore deve avere la giacca a che ora deve arrivare se vai in bagno quanto ci puoi stare come deve essere pettinato ma non c'è scritto niente della tua relazione con il tuo lavoro che è un pezzo decisivo della tua vita vi pare un contratto sensato a me pare una roba che ora di dargli una cambiata c'ha cent'anni quella cosa lì se la testa dei nostri avi ci ha dato questo contratto bella nostra non sarà capace di costruirne una adatta a un lavoro dove c'è tanta competenza tanta innovazione tanto sapere tanto creatività